Stiamo avendo un ruolo di marcia straordinario, 14 partite, 12 vittorie, un pareggio e una sconfitta. Ti dà sicuramente grande soddisfazione, così come in grande soddisfazione vedere i ragazzi che hanno voglia di superare l'ostacolo. Oggi è stata la dimostrazione, fino all'ultimo abbiamo creduto, ci abbiamo creduto e abbiamo ottenuto una vittoria che è meritata. Solo fino a 3-4 domeniche fa eravamo a meno 5, eravamo secondi, adesso ci troviamo a più 3 in classifica a dimostrazione che stiamo facendo delle cose incredibili e straordinarie.